Benissimo, sono lieto di informarvi che avremo a brevissimo un nuovo certificato, un nuovo documento di cui farci pregio quando andiamo via col veicolo perché ne sono pochi. Lo stabilisce la stessa normativa europea. Lo Stato italiano dovrà adeguarsi entro il 20 maggio e vi rego un elenco delle informazioni che saranno presenti in questo nuovo documento che si chiamerà certificato di revisione. numero di identificazione del veicolo, quindi il numero di telaio in più delle volte, targa di matricolazione, luogo e data in cui è stata fatta l'ultimo controllo della revisione, la lettura dei chilometri al momento del controllo, in modo tale che uno possa capire quanti chilometri è fatto dall'ultima revisione, la categoria del veicolo, se è un auto e se effettivamente è un autocar o autovettura, il luogo e la data in cui è stata fatta la revisione, le carenze individuate o i livelli di gravità che sono stati riscontrati, nonché alla fine il risultato tecnico del controllo, la data successiva del controllo che è prevista e il nome dell'organismo che l'ha effettuato. Questo certificato di revisione che è cartaceo alla fine è semplicemente uno scontrino di quello che è stata la revisione in quanto tale, ma se andate nel portale dell'automobilista, in teoria già c'è un servizio per il cittadino relativo ai propri veicoli che entrando come cittadino è possibile vedere quanti chilometri di questi dati per ogni targa di proprietà, nonché anche l'alimentazione. Ecco, il tutto ha uno scopo, quello di aumentare le informazioni a favore dei cittadini per la conoscenza del parco veicolare complessivo e per evitare le frodi nel mercato dell'usato, perché nel mercato dell'usato è molto difficile capire con chi stiamo parlando e che caratteristiche ha l'auto che si compra, quindi conoscere queste cose ti permette in altre parole di poter agire meglio sul profilo della compravendita. Più informazioni ci sono, più il mercato è perfetto, più il mercato è perfetto, meno difficile è frodare, meno difficile è frodare, più il mercato funziona. Quindi l'idea è questa, ma ci riusciremo perché sulle revisioni comunque ci sono molti interessi, neanche tanto dei centri di revisione che li fanno, quanto di coloro che devono far passare i veicoli dei centri di revisione. E su questo discorso mi fermo. Vi auguro a tutti un buon sabato mattina, oggi abbiamo anche gli esami, si va con le prassi e le attività normali, se avete delle valutazioni, dei dubbi, delle considerazioni potete farle in basso, se siete contenti potete scriverlo in basso, se non siete contenti potete scriverlo in basso. In ogni caso vi auguro che la giornata vada a finire in alto.